Dico una cosa che non piacerà, non piace a nessuno perché altrimenti l'avrebbero già detta anche altri. Però è mio dovere, visto che mi sono, diciamo, formato questa opinione, dirvela. Poi discutetene pure. Perché le scuole italiane sono più chiuse delle scuole degli altri paesi europei, a parte la pandemia o anche con la pandemia? Ve lo dico subito. Quelli che resistono ad aprire le scuole sono gli insegnanti. Sì, adesso voi vi dovete mettere in testa precisamente questa cosa. Sono soprattutto i professori che non vogliono tornare a scuola. È stato così per un anno. Noi l'abbiamo visto. Mi perdoni ma non posso esibermi. No, 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 io sono il giornalista insegnante e questo non lo può dire. Questo non lo può dire. Allora ritiri quello che ha detto. Io sono insegnante da 24 anni e io a scuola ci vado. Ci vado e faccio fatica. Vado e vado volentieri. Ritiri quello che hai detto, per l'amore. Marina, prego, io non voglio essere il meglio della mia categoria a sentirmi una cosa del genere. Ho capito, ma tu sei uno. Il direttore parla di un'intera categoria. Ci saranno dei dati che parlano di questo, scusami. Noi stiamo andando e stiamo facendo dignitosamente lo stesso lavoro. Aspetta che sta parlando il direttore. Sia a casa che a scuola. Perché io parlo da fuori sta semplicemente rappresentando qualche interesse di categoria dello stesso tipo. Allora, la mia soluzione è semplice. Vacciniamo subito tutti gli insegnanti. Dottore, io domani mattina vado a vaccinarmi. È la prima vaccinazione. La prima boccettina. Vi mandano gli insegnanti, i sindacati degli insegnanti, i rappresentanti degli insegnanti di tenere le scuole chiuse, spesso contro il volere dei genitori e pure dei ragazzi. Ora c'è la pandemia, ora c'è l'emergenza, teniamo le scuole chiuse per la salute. Ma appena è possibile, come è stato l'anno scorso, abbiamo ritardato e perso giorni e giorni di scuola perché gli insegnanti non volevano riaprire a giugno, a luglio. Noi potremmo stare aperti e possiamo stare aperti. Ma hai detto questo? E possiamo stare aperti adesso, anche fino al 31 luglio. E chi dice di no sono gli insegnanti. Rendetevi conto che è una categoria di persone che ha preso sempre lo stipendio per un anno a differenza di moltissimi alteri. Vacciniamoli e che non tirano più fortidio alla scuola. E ci sono gli insegnanti che a parità di condizioni di rischio che hanno i ferrovieri, che hanno i postini, che hanno gli autisti del tram, che stanno andando a lavorare tutti i giorni. Se ci sono gli insegnanti che pensano che corrono più rischio, ragazzi, non voglio dire che è una loro missione. Ma voglio dire che è un attimo, perché immagino stiamo vedendo il direttore e un attimo, per favore. Non mi interessa la discussione su questo, ho le idee, porto gli occhiare, vi ho detto la mia, potete pure lapidarmi. No, direttore, direttore, è sempre un grande piacere. Non mi interessa, vi ho detto quello che vedo col mio lavoro tutti i giorni, in grandi città, Roma e Milano. Grazie, direttore, direttore, veramente grazie.